Sono ripartiti i corsi di recupero, ci sono già i ragazzi all'interno della scuola, una ripartenza all'insegna della massima sicurezza? Per forza, siamo attenti agli spostamenti, ai movimenti, agli ingressi, alle uscite, alla registrazione di tutta la documentazione necessaria. Sono le prove generali di quello che accadrà il 24, quindi vogliamo vedere un attimino come funziona. Già da ieri abbiamo iniziato con le prime attività nelle classi, ovviamente sono classi ridotte, gruppi di ragazzi di diverse classi che vengono tenuti assieme da un insegnante, si iniziano a fare le prime lezioni di quello che non era stato completato durante l'anno scolastico scorso. Ieri è andata bene, oggi vedo che si lavora tranquillamente, non ci sono grossi problemi, è chiaro che ci prepariamo all'apertura ufficiale del 24. È stato un grande lavoro fatto durante tutta l'estate, in collaborazione con gli enti locali. Abbiamo dei lavori importanti sull'altra sede di via Vespucci, dove abbiamo ottenuto 19 aule molto grandi, perché qui ne abbiamo parecchie di classi numerose e quindi si alterneranno i ragazzi in queste aule grandi, gli altri che riusciamo ad inserire nelle aule un po' più piccoline invece si divideranno tra via Vespucci e via Balilla. Il distanziamento è stata fatta alla misurazione attenta di ogni aula, con il distanziamento delle rime buccali, dell'area dei due metri di distanza dal primo alunno, dal docente, e quindi per ogni classe avremo una planimetria che dovrà essere rispettata, con segnaletica a terra, e quindi nulla dovrà essere mosso da quella che sarà la disposizione dell'aula. Noi abbiamo predisposto un piano d'ingresso, quindi con il distanziamento e lo scaglionamento, soprattutto per evitare assembramenti ai cancelli ed evitare la ressa al momento dell'accesso alle aule. Però utilizzeremo anche tutti gli ingressi e le uscite disponibili, quindi i ragazzi saranno spalmati su più punti dei quattro plessi, delle quattro sedi della nostra scuola. Pertanto prevediamo che si possa evitare l'assembramento. Chiaramente lo scaglionamento ci aiuterà tanto. Il ragazzo entrerà, avrà il regolamento che già abbiamo condiviso con il corpo docente, che le famiglie non solo leggeranno sul nostro sito, ma ci saranno anche dei momenti di condivisione, quindi verrà spiegato loro come si devono comportare. Chiaro che il punto di partenza è che tutti devono rispettare le regole essenziali, docenti, personale della scuola, ragazzi, le famiglie devono collaborare. In questo abbiamo i documenti ministeriali, sollecitano molto le famiglie alla collaborazione e abbiamo bisogno della collaborazione delle famiglie, perché la minima difficoltà ovviamente va risolta assieme. Quando parlo di collaborazione della famiglia, sapete bene che la normativa chiede la collaborazione della famiglia appunto nella misurazione della temperatura prima che il ragazzo esca di casa. Quindi questo è indispensabile per agevolare le nostre operazioni. Per quanto riguarda la mascherina, c'è da distinguere la situazione statica e dinamica. La situazione ad oggi ci dice che in situazione statica, con distanziamento di rime buccali di un metro, si possono evitare le mascherine. Ogni movimento, minimo movimento, che porti ad una situazione di distanziamento non garantito, il ragazzo deve indossare la mascherina. Quindi soprattutto all'inizio saremo molto attenti.